ah mamma mia ah mamma mia ah mamma mia ah mamma mia ah Tere Tere è troppo bollente eh signora così deve essere sennò non fa il petto come si dice il caffè che c'entra il caffè a me mi vanno male la colaca tutta colaca ah mamma mia ah mamma mia ah Tere quante gocce mi hai messo quante ne prendete e quante ne pigli non mi ricordo mi pare che abbiamo diminuito vero no quelle che ho messo insomma non posso sapere quante gocce ho pigliato qua dentro non mi ricordo quelle sono scese mmm chissà quante ne ha fatte cadere vieni qua figlia mia bella figlia mia bella tu adesso parti t'allontani da casa tu t'allontani e piedi monte fra poco per te sarà solo un ricordo vedrai vedrai Napoli la folla la gente eh signor una cosa più svelta quella se ne deve andare e Tere Tere lasciami parlare ma voi ma voi lì il treno parte il treno non parte parte quando dico io dopo dopo ho parlato con mia figlia il capo stazione vieni qua vieni qua vieni qua dunque se qualcuno ti dice qualcosa tu non devi rispondere eh così la prendi per sorda sì meglio che per una donna ti faccia l'abordaggio uno ti dice qualche cosa tu cambia posto e se i posti non ci sono tiri il campanello d'allarme se fermo tre eh brava almeno te ne torni qua un'altra volta signor tanto Sandrina c'è San Napoli che ti aspetta tu te ne stai tranquilla stai a posto sono io sono io che passano 24 ore di calvario il calvario di una madre capisci perché tu domani mattina stai qua eh a piedi monte torni una tavola da qua mmm mmm e adesso va va figlia mia va buon viaggio figlia mia mi raccomando eh nella valigia ti sei messa tutta la camicia da notte la maglietta di lana che se a Napoli fa freddo e perché a Napoli ci sta sempre un po' di aria in più ti sei messa tutta e ricordati per qualunque evenienza tu sei vaccinata come è venuto puro dottoro qua sicuro dottoro c'è Giovanni giù col calessino che ti accompagna alla stazione va va figlia mia bella va va figlia mia bella mamma mia mamma mia grazie a tutti grazie a tutti